Oggi vorremmo parlare dell'addetto antincendio nelle aziende. Ogni impresa per legge deve individuare un soggetto addetto alla prevenzione o alla gestione degli incendi. A seconda dei casi questa persona può essere un lavoratore dipendente o il datore di lavoro. All'addetto antincendio è richiesto il seguire corsi di formazione e aggiornamenti specifici. Durata e contenuti dei corsi variano a seconda che l'azienda sia rischio basso, medio o elevato. L'aggiornamento deve essere fatto ogni tre anni. Uno degli argomenti di questi corsi riguarda l'uso degli estintori. Grazie a tutti. per maggiori dettagli cliccate sulla icona della scheda informazioni per essere sempre informati sui nostri articoli iscrivetevi al nostro canale youtube e seguite la nostra pagina facebook grazie